Cari amici di Focus, ciao a tutti, sono Federico, autore del libro La via del cuore, sono felice di essere qui con voi, sono in diretta, dovrei, quando riuscite a collegarvi fatemi sapere se mi sentite, e niente, io sono qui perché sono l'autore di questo libro, per chi non lo conoscesse, è un libro frutto di canalizzazioni medianiche, quindi sono entrato in contatto con delle entità che a me si sono rivelate come esseri di luce, io non li vedo fisicamente, quindi non posso dirvi come sono agghindati, ma dentro di me li ho sentiti, quindi hanno parlato alla mia coscienza fondamentalmente. Io stando nello stato di ascolto sono riuscito a fare delle canalizzazioni che poi ho raccolto appunto nel libro La via del cuore. Questi esseri di luce si sono manifestati a me perché ho fatto una richiesta di aiuto e il loro compito è appunto supportare la nostra vita sulla terra, perché noi spesso ci sentiamo da soli, crediamo che siamo abbandonati a noi stessi. Io ho avuto la prova assoluta che non è così, noi siamo immersi nell'amore. Sembra paradossale da dire che siamo immersi nell'amore in questo mondo dove sembrano un inferno a volte, ma nella realtà noi proprio siamo immersi nell'amore, è che non riusciamo a percepirlo. Questi esseri di luce mi hanno permesso di riuscire a sentirlo e mi hanno insegnato appunto la via del cuore, che è una via, un metodo per imparare ad ascoltarsi e a sentirsi e quindi aprirsi all'amore, perché è sempre qui, è sempre presente, è sempre accessibile. Il problema è che noi guardiamo dalla parte opposta. Sembra paradossale, no? Lo cerchiamo costantemente e continuamente in tutte le persone, in tutte le situazioni, in tutte le cose e in realtà è dall'altro lato, è dentro di noi e quindi dobbiamo imparare ad andare dentro. Ora tutte le pratiche della spiritualità che sono state create fino ad oggi, hanno tutte l'utilità di andare dentro se stessi. E' chiaro che già muoversi nel mondo è un universo infinito, no? Il nostro. Quindi è difficile trovare una direzione. Figuriamoci sondare l'ignoto che è una cosa dentro di noi dove fra virgolette c'è buio. E come facciamo a sondarci? Allora ci sono venuti e incontro, no? Le tecniche, il teta healing, l'alfagenico, il respiro, lo yoga, la meditazione, il cristallo, insomma, io non sto a elencarli tutti, ne sono veramente tante di tecniche. Ma poi l'obiettivo alla fine è entrare in connessione con se stessi e sentirsi. Perché alla fine bisogna imparare ad ascoltare. Il problema è che noi l'unica cosa che ascoltiamo quasi costantemente è la voce incessante della nostra mente, il nostro io, no? Il nostro io ci parla costantemente e ci racconta la storia della realtà. Qualcuno mi sembra, per chi ama il cantastorie, la mente. Ok? Quindi ci racconta una storia costantemente, la storia di noi stessi. Adesso faccio quello, adesso vado a quello, adesso gli faccio vedere chi sono io, adesso gli dico quella cosa lì, adesso mi metto in luce, adesso, 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 dopo vado, dopo faccio. Io, 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 io. La mente è così. Riporta tutto a se stessa. Se noi riusciamo a mettere un po' da parte quella parte lì, si apre un universo infinito, sconfinato, che è quello dell'anima, che è quello dell'essere. E quindi riusciamo anche a percepire la realtà con altri occhi. Perché di colpo il mondo non ci scappa dalle mani, non corre da nessuna parte, ma ci accorgiamo che siamo noi che corriamo costantemente. O corriamo fisicamente, o corriamo con le nostre automobili, o corriamo con i pensieri. Come facciamo a correre con i pensieri? Spostando l'attenzione. Spostiamo l'attenzione continuamente da una parte all'altra. Col cellulare, adesso, con la rete, è diventata una ricerca continua, no? Le statistiche dicono che stiamo pochi secondi su un post. Non riusciamo neanche più a leggere alcuni di noi, vero? Ok? Siamo ormai così veloci che non abbiamo neanche il tempo di fermarci a riflettere. Perché? Perché l'attenzione è così, è vorace, consuma istantaneamente l'informazione e poi passa oltre, passa oltre, passa oltre. Ma in questo setaccio cosa resta? Restiamo noi che cerchiamo l'appagamento. E per quanto lo stimolo che arriva alla mente tramite un'informazione, un'immagine, un video, un evento esterno, una situazione, possa per un attimo creare quelle scariche nel cervello che creano quella sensazione di premio, sono tutte effimere, sono tutte impermanenti. E quindi a un certo punto bisogna uscire da quel labirinto di ricerca continua, come stare il cricetto in una ruota che continua a correre alla ricerca. Noi dobbiamo imparare invece a rallentare, a fermarci, ad ascoltarci e a meditare anche su quello che ci capita, oltre che sull'ambiente che ci circonda. Riconoscere perché siamo in un certo ambiente con quelle persone e anche riconoscere come agiamo e reagiamo in quell'ambiente e con quelle persone. Perché noi lo percepiamo in un certo modo e quindi ci muoviamo di conseguenza. Ma se noi molliamo un po' la percezione e quindi lasciamo che la vita ci fluisca dentro, quegli stessi luoghi, quelle stesse persone, quegli stessi ambienti si trasformano, perché li trasformiamo dentro di noi. Le guide dicono è semplicemente la manifestazione di se stessi in tutto. E quindi quando gli altri manifestano loro stessi nei loro ambienti e noi entriamo in contatto con loro, o li lasciamo esistere, quindi li lasciamo manifestare, li percepiamo come tali, o se no li filtriamo con la nostra idea di reale, con la nostra immagine di ciò che dovrebbero essere loro. Vedo un attimo se si è collegato qualcuno, così vi saluto. Tanto abbiamo fatto un po' di infarinatura di questa serata, vi ho messo un po' di carne al fuoco o di verdure grigliate al fuoco, rivegani. Così mi dite un po' come state, cosa pensate, come sta andando la vostra vita, se avete delle domande, se volete condividere qualche vostra esperienza. Siamo qui per stare un po' assieme, quindi più vi aprirete e più sarà una bellissima serata che condivideremo. Ciao Antonella, buonasera, ciao Laura, ciao Monica cara, ciao Carla, ciao Adele e ciao Michela. Ecco, c'è qualcuno che vuole di voi aprire qualche porta, condividere qualche, fare qualche richiesta, se no... Ciao Maria, buonasera anche a te, se no vediamo un po' di raccontarvi qualcosa. Allora, io ho parlato di esseri di luce e di guide, chi ha letto il mio libro vede che ci sono tanti passaggi dove non c'è una sola entità che è venuta a contatto con me, all'inizio sono venute un altro tipo di entità, quelle che sovrintendono un po' a quella che possiamo definire l'architettura umana, ovvero quelle energie che ci sostengono nelle nostre routine, che sembra un po' strano, però se dovete pensare, se pensate che siamo più di 7 miliardi e mezzo di esseri umani, ci devono essere delle energie che mettono in relazione, in correlazione, in sincronia, in armonia, che creino poi le sincronicità. Quindi sono energie adatte anche a questo tipo di attività, come tante adatte alla sopravvivenza. Ero entrato in contatto con quel tipo di energie perché sul lavoro mi ero accorto che c'erano delle persone che vivevano come se avessero un pilota automatico e quindi accorgendomi di questo tipo di entità che avevano, praticamente erano loro il pilota automatico, sono venuti in contatto con me per spiegarmi che non c'era male, perché subito mi ero spaventato, ho detto Dio siamo controllati, siamo chissà cosa, no? Tant'è che le guide le prime cose che mi dicono, il male non esiste, esiste la sofferenza e le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza. Quindi non è che c'è gente che ti vuole male, c'è gente che soffre. Ci sono entità sofferenti, quindi questa loro sofferenza la portano in giro attorno a loro e quindi quando interagiscono con noi ci fanno soffrire. E quindi parlavamo di queste entità che sono a supporto dei nostri sistemi fisiologici e delle nostre interconnessioni e relazioni e loro dicevano in un pezzo del libro praticamente che che loro ordinano il caos, che noi ordiniamo il caos, che Dio ordina il caos, tutti gli esseri ordinano il caos, perché queste entità sono a un livello che cercano di ordinare l'umanità e farli evolvere nella coscienza. Poi quando sono entrati in contatto con le guide per la guarigione dell'animo, dello spirito, per entrare a un livello di profondità più intimo, loro dicono fede è tutto in ordine, è tutto a posto, tu non sei a posto, tu soffri. E quindi se avete letto, no, questo l'avete trovato nei regni della luce, quelli che ordinano il caos nel capitolo, mentre quello che vi dico lo trovate nel capitolo delle guide. Ok, quindi ci sono varie entità con cui sono entrati in contatto, quelle più fra rigolette elevate per loro è tutto in ordine, è tutta armonia, è semplicemente che nei livelli inferiori probabilmente non hanno questa percezione più ampia della realtà, dell'essere, perché sono funzioni specifiche che svolgono. Tant'è che queste entità dicevano noi non trattiamo le emozioni, infatti quando le ho canalizzate sentivo questo distacco gelido, mi faceva stare male perché dicevano che caspita di entità sono, sembravano delle macchine. Invece poi quando sono entrate le guide, quelle per la mia guarigione spirituale, lì le ho sentite come, nel senso mi hanno scoperchiato il cuore come fosse un coltello cardo sul burro, perché bisogna imparare poi a sentire. E quindi queste entità sono venute a darci un messaggio fondamentalmente, a meno a me. Io poi ho pensato bene di condividerlo con tutte le persone che conoscevo e anche di più, tant'è che stasera siamo qui insieme. Il messaggio fondamentalmente è appunto ascoltare il cuore, che può essere vista come una cosa un po' ideale, un po' che lo immagino. Quando facciamo gli esercizi con alcune persone, gli dico dovete ascoltare il cuore, loro si immaginano il cuore. In realtà non è l'immaginazione, cioè noi non dobbiamo visualizzarlo il cuore, noi dobbiamo portare l'attenzione in basso, perché l'attenzione si focalizza. Ok? Noi per vivere nel mondo fisico reale, tridimensionale, nella realtà del corpo, siamo costretti a focalizzarci, portiamo l'attenzione costantemente su miliardi di cose ogni giorno, ed è un gesto così automatico che spesso neanche ce ne rendiamo conto. Cioè noi non riusciamo a riconoscere dove va la nostra attenzione, perché l'attenzione è così veloce e continua così a spostarsi che noi non riusciamo a fermarla, non la riusciamo a padroneggiare. Per questo esiste la meditazione, no? Perché la meditazione toglie energia al mondo esterno, la porta al mondo interno e concentra l'attenzione o sul respiro o quando fate il rilassamento su parti del corpo. Allora concentrando l'attenzione su alcuni punti, automaticamente andiamo in rilassamento e quindi riusciamo a avere quelle esperienze extrasensoriali, no? Queste esperienze chiamiamole mistiche. Però le guide mi dicono Fede guarda che il cuore è la porta verso l'anima e i regni superiori, perché se tu ti posizioni sul cuore, quindi l'attenzione la porti in basso, perché la nostra attenzione sta in alto nella testa, quindi questi 40 centimetri fanno la differenza. Ok? Se noi portiamo l'attenzione in basso, creiamo un vuoto dentro di noi che viene automaticamente riempito. Quindi non siamo noi a buttarci nell'assoluto, ma è l'assoluto che ci permea e ci riempie. È proprio un concetto diverso. Tant'è che viene spiegato nel capitolo Reiki con l'esempio del bicchiere d'acqua e della brocca. Ok? Cioè noi non possiamo con la nostra mente, per quanto fantastica sia, per quanto stratosferica che può fare delle cose incredibili, comprendere l'assoluto, quindi comprendere i regni superiori e gestire. Dobbiamo fare un atto di umiltà e lasciare che loro si guidino. Tant'è che le guide le chiamano guide, ci guidano loro. Ok? È un atto di umiltà, è un riconoscimento. Ok? Noi riconosciamo che non siamo soli, riconosciamo la grandiosità dei regni della luce, dei regni superiori. E quindi ci facciamo da parte e diciamo aiutatemi, guidatemi. Io resto in ascolto e per restare in ascolto mi concentro sul cuore. Non vado in giro per la mente, perché io quando mi focalizzo su infiniti punti, no? Sulle cose da fare, su quello che mi hanno detto, quello che è successo al lavoro, il traffico, la spesa, le bollette, i soldi, la televisione, gli sms, i like e avanti. Se mi concentro su tutte queste cose, mi perdo in un universo infinito. E quindi non riesco, no? Sono così occupato che non c'è spazio per l'energia delle guide. E quindi io devo ritirarmi un po' da questo mondo, abbassare un po' la mia attenzione, la mia energia, la mia frequenza e quindi lasciarmi poi, no? Per meare, guidare. Ma mi vengono date costantemente suggerimenti. E che il più delle volte noi, la mente è così veloce che appena ricevo un suggerimento dalla coscienza e dalle guide, no? Perché le guide parlano tra la sua coscienza. La taccia. Sì, sì. Cioè, l'io, la mente non accetta consigli. Perché la mente è quella che sovrintende al corpo umano. Il corpo umano è quello che è immerso nella realtà fisica. Quindi la mente dice io controllo il corpo umano, io gli faccio fare tutto, io coordino tutto, io so tutto. Non accetta che arrivi un'energia che gli dica qualcosa che magari è già nel futuro, nel senso mi capita spesso che la mia voce interiore mi dica fai questa cosa qua e io dico ma no, dai, non la faccio e poi dopo mi accorgo che mi sarebbe stata utile. Perché? Perché loro stanno fuori dallo spazio-tempo. Essendo fuori dallo spazio-tempo, lo sanno cosa ti succede dopo, perché energeticamente loro dicono è come se fosse già accaduto. In questo concetto è un po' strano, perché loro dicono per noi non esiste spazio-tempo. È come se tutte le azioni fossero state fatte nello stesso istante. E quindi capite bene che è difficile pensare che io ho già vissuto tutta la mia vita in un istante e al tempo stesso la sto vivendo negli anni. Perché da far passare un anno contando i secondi è lunga. Eppure c'è un non luogo dove la mia vita è già stata vissuta, con tutti gli altri esseri. Ed è incredibile se ci pensate. La nostra anima e loro sono posizionati in quel non luogo dove tutto è già accaduto, dove tutto è sempre esistito. Perché succede energeticamente, possiamo dire in un nanosecondo, in realtà succede l'istante. Mentre qua, esistendo lo spazio-tempo, le cose hanno una cronologia. Vedo un attimo se vi ho persi. Allora, ciao Maria, ciao Lara, ciao Pierpaolo, ciao anime silenziose, che è il bello. La prima volta che ti ascolto e speriamo di esserti di utilità o semplicemente di farti passare una bella serata. Ciao Sabina, Michela, partiamo con le domande. Oh che bello. Come hai fatto ad entrare in contatto con le guide? Allora io personalmente, ve lo dico schiettamente, volevo andarmene dall'altro lato. Volevo tornare al creatore, perché qua non stavo proprio bene. Volevo gettare la spugna. Al che ho detto, anima mia, o mi dici che vuoi da me e io me ne vado. Finalmente la mia anima ha detto, caspita, dopo 38 anni finalmente mi ascolta. Perché il mio io è zuccone, vuole fare sempre di testa su, lui crede di sapere tutto, lui crede di essere l'alfa e l'omega. E quindi mai che avesse ascoltato la voce interiore, figuriamoci, piuttosto si spacca la testa. E quindi per quella volta che ho mollato, no, ho gettato la spugna, finalmente hai iniziato a parlarmi. Cioè io sentivo dentro di me, come ti parla la mente, no? Ti parla anche la coscienza, solo che la mente parla molto velocemente, è a un livello molto, ha un volume molto elevato, mentre la coscienza parla più delicatamente, ha un volume meno elevato e non è lineare. Perché la mente ha una certa linearità. La coscienza quando ti parla ti arriva come flash e poi si srotola dopo. Ok? Quindi ci sono entrato in contatto in questo modo, chiedendo aiuto. Quindi l'anima, nelle canalizzazioni magari lì non l'ho scritto, la mia anima è entrata in contatto con le guide e ha orchestrato degli eventi nella mia vita fisica, tali che io facessi un percorso di presa di contatto con gli angeli. Praticamente io facevo il telelavoro, lavoravo da casa, mi ero un po' perso per via di varie cose che non vi sto a raccontare. Quindi da un mondo completamente isolato e cibernetizzato, così lo possiamo dire, mi hanno trasferito di lavoro, mi sono trovato a vivere a Milano in mezzo al casino, al traffico, al caos. Quindi la mia mente è stata completamente destabilizzata, anche il lavoro è stato stravolto, i colleghi. Io ero abituato a sentirli per telefono, a via mail, invece poi avevo dei colleghi fisici con cui non andavo neanche tanto d'accordo. Per cui è stato uno shock emozionale molto forte che mi ha fatto emotivamente esplodere. E in quel mentre entro in libreria esoterica e mi ritrovo con un libro di channeling in mano, perché volevo entrare in contatto con una guida, perché, parentesi, io ho fatto Reiki e quando ho fatto Reiki sono entrato in contatto con una medium che canalizzava un angelo, questo angelo che chiamiamo Angelico. Questo angelo mi ha insegnato... Mi sentite ancora? Spero che mi sentiate ancora, perché mi dice che ci sono problemi a riprodurre questo video. Io vado avanti. La mi dite se mi sentite ancora, perché io non vedo più niente. Se mi riuscite a sentire, mi scrivete qualcuno? Sì, mi sentite. Va bene. Allora io vado avanti. No, perché il mio video è scomparso. E quindi non so, non sapevo se siete ancora online. E quindi vado avanti, niente. E quindi questa cosa che è successa? Sono entrato in contatto con questo angelo e lui mi ha praticamente aiutato nei primi processi di espressione della sofferenza. Perché? Perché quando andiamo nel cuore, no? Quando entriamo dentro noi stessi, dobbiamo poi prendere contatto con tutti i dolori della nostra vita, nel nostro vissuto, no? Dobbiamo, fra virgolette, medicare le cicatrici dell'anima. E' per questo che si fa fatica a stare dentro di sé. Cioè non è che siamo tutti pazzi e che viviamo fuori perché siamo alienati. Siamo alienati perché dentro soffriamo. Ovviamente non tutti, non tutti a misura eclatante, cioè in realtà tutti un pochettino. però a misure diverse, ok? Sono il karma, lo chiamiamo karma. Sono i bagagli karmici, praticamente l'insieme delle cause, degli effetti che abbiamo scatenato, che ce li trasciniamo dietro. Quindi tutte le anime con cui siamo in conflitto che siamo costretti a incontrare nel nostro cammino e che ci scambiamo un certo tipo di relazione, no? E quindi tornando un attimo alle guide, con questo angelo ho fatto i primi processi di apertura del cuore. Poi ho perso i contatti con questa medium per anni e quindi quando mi è successo questo evento che mi ero trasferito con tutte quelle peripezie strane, cosa ho fatto? Sono andato in libreria esoterica, ho preso un libro di channeling per cercare di contattare questa guida. E quindi sono andato io verso di loro, nel senso ho chiesto aiuto all'anima, ho preso un libro di channeling, quindi ho scelto di ascoltare. Cioè, sono stato umile e ho chiesto aiuto. Ho scelto di ascoltare perché ho cercato il contatto con gli angeli e poi sono rimasto in ascolto perché per mesi o poi ho fatto solo quello, ho mollato il lavoro praticamente, ho fatto un full immersion completo perché in quel momento la mia vita era necessario, era un imperativo al quale non mi potevo sottrarre. dovevo farlo perché ero arrivato a un livello di sofferenza interiore tale che non vivevo più bene, non riuscivo a vivere le cose più semplici. È come la brocca, quando la brocca è piena, appena la muovete quella trabocca. Allora bisogna svuotarla per poterla portare in giro. Io ero così. E allora sono venute ad aiutarmi. Visto che sono uno un po' smemorato, mi hanno fatto fare le canalizzazioni e il libro così che io non me lo possa più dimenticare. Quindi hanno fatto bene a me e hanno fatto bene a alcuni di voi che l'hanno letto e che mi hanno detto che gli è stato utile. Quindi due piccioni con una fava. Quindi diciamo questo è stato un po' come sono entrato in contatto con questa entità. Poi loro mi hanno detto Fede, noi siamo sempre stati qui. Tant'è che scrivono potremmo dire mano nella mano fin da prima che tu nascessi. Siamo attaccati a te come siamo attaccati alla vita, come tu sei attaccato alla vita. È un'energia, sono energie, è come una torta più strati. Quindi loro sono uno strato della torta, noi siamo un altro strato della torta. È a livelli. Quindi loro fanno parte dell'esistenza come la nostra anima è parte della nostra esistenza, come il nostro corpo è parte della nostra esistenza, la nostra mente, l'energia creatrice. È tutto dentro di noi. solo che non riusciamo noi stando qua ad averne coscienza, non riusciamo a vedere perché guardiamo a quella che viene definita la separazione, la manifestazione del creato, la terra in questo caso. Noi vivendo sulla terra e guardando sulla terra e muovendoci sulla terra non riusciamo a percepire tutti gli strati sottili dell'essere. Poi ovviamente alcuni di voi per lavoro o per propria diciamo natura hanno accesso a questi regni, ma la maggior parte non se ne rende conto. Io ho amici che pensano che sono un matto e che anche voi che ascoltate queste cose siate dei matti. Ok? Perché loro vivono nella percezione dei sensi e nel mondo fisico. Per loro esiste la macchina, la casa, vado a bere qualcosa, vado a mangiare, esco, faccio, dico, ho visto, ho sentito, tutte cose che sono legate ai sensi e non al sesto senso, al sentire. Ok? Queste cose fanno parte di altre proprietà dell'essere, possiamo definirle, che ne vanno in cerca diciamo la nostra branca che sono gli spiritualisti se ci vogliamo incasellare o semplicemente le persone che hanno una certa sensibilità o un certo vissuto o la necessità di trascendere la vita umana. Però è evoluzione, è vero? È una riconnessione al divino che è in sé. Vado un po' avanti così vedo se mi avete chiesto altre cose. Spero di aver risposto. Allora, infatti siamo noi a cercare, a crearci il male. Marco, sì, alla fine sì. Ce lo creiamo noi attraverso le nostre scelte. Nel senso, faccio un esempio. Quel giorno lì, esco a quell'ora lì, passa una macchina e faccio l'incidente. È male. cazzo, ho fatto un incidente. Ma sono io che ho scelto di uscire di casa a quell'ora lì. Magari era una giornata in cui ero di fretta, ero stressato, ho litigato magari con la mia famiglia o con la mia moglie o con chi si peressa. Ok? E quindi quella giornata pulmina pure con l'incidente. e quindi possiamo dire che giornata lì ci siamo capiti. Ok? oppure potremmo dire quella persona cioè entro in relazione con una persona che mi fa soffrire. È male. Ma poi devo chiedermi perché mi capitano certe cose. Nel senso, in un mondo pieno di 7 miliardi di umani, perché becco quel tipo di persone che mi fanno soffrire. O sono tutti persone che soffrono o semplicemente io ho la lanternina. In realtà si chiama risonanza. C'è una parte di me molto probabilmente inconscia oppure è conscia ma non l'ho ancora trasformata che va a richiamare quel tipo di energia e quindi quella persona sofferente si manifesta a me. È come andare in giro a cantare una canzone che cosa succede? Che magari le persone che conoscono quella canzone che stiamo cantando la cantano insieme a noi e quindi noi entriamo in risonanza in armonia facciamo un duetto e quindi sì ce lo creiamo noi alla fine il male perché magari nel senso facciamo un esempio mi sono trovato in famiglia un certo familiare con cui ho delle problematiche bisogna capire come mai che sono sceso in quella famiglia con quel familiare con cui ho quelle problematiche probabilmente ci sono dei pregressi chissà che cosa ci siamo fatti in un altro per trovarci oggi qui a dover vivere queste situazioni ok e quindi sì ce lo creiamo un po' noi ma possiamo anche scegliere di cambiare cioè una volta che prendiamo coscienza che c'è una parte di noi che fra virgolette chiama il male dobbiamo riconoscere perché dentro di noi c'è questa sofferenza no dov'è dov'è che sia originata intanto restiamo in questa vita perché in questa vita c'è ci danno il risultato di tutto quindi arrivano degli attori che ci infliggono quelle sofferenze che ci permettono di fra virgolette riesumare tutti i dolori passati delle passate vite quindi in questa vita diciamo abbiamo la somma di ciò che c'è accaduto quindi lavorando quelle cose di questa vita possiamo sciogliere i nodi e prendere coscienza se io prendo coscienza di parte di me che attirano fra virgolette il male cerco di non alimentarle di non attivarle o se si manifestano nella mia vita di comprendere per quale ragione si manifestano anche contro la mia volontà quindi qual è quella parte inconscia che non sono che non ho ancora visto e una volta che la vedo e la trasformo non hanno più ragione queste parti di manifestarsi e quindi io fra virgolette divento più felice smetto di farmi male o di vivere il male fondamentalmente mi amo prendendomi cura delle mie ferite dell'anima del mio bagaglio carmico quindi portando amore dove c'è il dolore automaticamente mi sto amando e quindi per riflesso fuori da me vivrò delle esperienze più positive più gioiose più amorevoli ciao Giuseppe buonasera ciao Carmen allora quello di condividere con gli altri queste cose credo sia la forma di amore più bella anima silenziosa e sì sì io in questo periodo con il covid qua ho ho ristretto tanto i contatti nel senso ci hanno bloccato tutte le possibilità di relazione fisica di incontro fortunatamente ho fatto qualche streaming però posso dirvi che un po' ho sentito la mancanza di poter condividere perché quando ti metti in questo stato di di condivisione con gli altri anche quando facci consulti individuali e quindi ti metti a fare fra i due le canalizzazioni per le persone per aiutarli a sciogliere i loro nodi senti tanto amore ma proprio tanto e quindi dover un po' tirare indietro per via delle restrizioni che ci hanno imposto è stato è stata dura un po' invece stasera io sono proprio contento perché sento un bel clima sento una bella energia siete siete tanti siete accoglienti e di questo vi ringrazio tanto perché grazie a voi grazie a focus che mi ospita io posso parlarvi di questo e parlandovene lo sento anch'io e quindi vi trasmetto quest'amore che ho sentito e che sento ancora in questo istante oh ciao Luigi buonasera ciao Manolo buonasera anche a te grazie anime silenziosa grazie Enrico che anche lui è qui stasera che mi ha ospitato è sempre un piacere venirti a trovare Enrico casa tua è sempre molto accogliente eh sì il tempo per le guide non esiste a volte è difficile io parlo di me quando sono preso dalle mie cose da fare no devo perché poi la mia mente faccio ancora il programmatore il sistemista quindi funziono per logiche per compartimenti per analisi quando mi prende una cosa da fare me la metto in memoria e continuo a martellarla affinché non l'ho risolta perché risolvo problemi informatici quindi il mio approccio alla vita è così un po' da riete testa bassa e vai e vai e vai e vai ti metti un obiettivo poi un altro poi un altro poi un altro ancora e continui e continui poi a un certo punto ti scopri che sei in ansia oppure la vita mi capita spesso la vita mi dà degli stop e c'è una parte che reagisce e si incazza perché vorrebbe continuare mentre ormai mi sono accorta che quando la vita mi mette questi stop mi dice ciccio rifletti un po' non è che ti sei un po' allontanato da te stesso e hai smesso di ascoltarti perché è così che funziona a me succede per strada quando comincio ad arrivare tardi agli appuntamenti per cui mi viene l'ansia vado di fretta e corro per strada mi trovo sempre ok la persona che va piano e quella persona che va piano mi fa reagire inizialmente ma al tempo stesso mi fa riflettere mi dice Fede non corri che ti perdi veramente perché poi quando è il momento che tu arrivi in quel momento giusto lì hai sempre i semafori verdi nessuno per strada mentre quando non è il momento che tu arrivi nel periodo di tempo che ti sei prefissato ti arrivano tutti gli ostacoli perché devi anche interiorizzare comprendere perché agisci capire perché ti stai facendo venire l'ansia per correre dietro a un'idea di realtà no? ah perché se arrivo un minuto in ritardo io sono una persona puntuale non esiste che arrivi in ritardo è un'idea che io ho di me stesso se mi concedo di arrivare un minuto in ritardo intanto mi salvo la vita perché non la rischio in macchina mi risparmio le multe e non mi faccio il sangue amaro con la gente che mi trovo per strada ok? quindi bisogna ascoltarsi anche qua ascoltare il nostro interno che quando è inascoltato si manifesta all'esterno nel mondo reale quindi questa entità che dicevamo prima che creano le sincronicità ci mettono di fronte tutta quella serie di ostacoli che ci fanno reagire internamente ma al tempo stesso ci fanno sentire che cosa è il nostro stato d'animo allora se tu ti rendi conto che dici caspita ma perché mi sto arrabbiando perché sono in ansia perché do tutto a questo potere questa energia all'esterno cosa c'è dentro che non sto ascoltando a quel punto lì torni un po' dentro e dici boh che fretta c'è muore qualcuno e se muore che ci posso fare a quel punto cominci a quitarti ok e quindi sì il tempo non esiste in quel momento quando ti accorgi che la vita è dentro di te ok questo è importante no la vita è dentro di me finché ho la vita ho tutto il tempo che voglio quando la vita finisce finito anche il tempo ma se io voglio vivere di più quindi voglio avere più tempo e la mia vita finisce che ci posso fare se io voglio vivere di meno ma la mia vita continua che ci posso fare a parte togliermela ok cioè quindi finché abbiamo la vita abbiamo tutto il tempo che vogliamo e quindi dobbiamo imparare a rilassarci a surfare sereni allora Tina ecco perché a volte ricordiamo dei fatti come se fossero già accaduti ah ok Tina parli di come se tutti gli eventi fossero stati fatti nello stesso istante sì nel déjà vu perché una parte di noi li ha già vissuti energeticamente sono già accadute è come se vedessimo un film che abbiamo già visto il film della nostra esistenza solo che è avvenuto in un istante per cui ogni tanto abbiamo dei flash come quando abbiamo quegli incontri importanti abbiamo quella sensazione di averlo già vissuto da una parte è vero perché le anime più delle volte quelle con cui abbiamo delle relazioni importanti si incontrano si rincontrano continuamente nel senso perché noi misuriamo sempre tutto con la vita terrestre io Federico cent'anni massimo ma per un'anima cent'anni non sono niente quindi immaginate un processo di un'anima di avvicinamento a un'altra anima che magari prima si sono uccisi poi si sono menati poi si sono osteggiati poi hanno iniziato ad amarsi a volersi bene a rispettarsi a condividere e l'amore cresce queste anime magari vanno avanti da millenni a fare questo lavoro di alchimia insieme noi non sappiamo mai veramente che cosa ci capita no? vediamo una persona ci piace ci innamoriamo e poi magia è bellissimo ascoltarlo mio figlio di quattro anni si è addormentato ascoltando Federico accanto a me sono beh ti posso garantire anima silenziosa che ogni tanto quando guardo i miei video mi viene anche a me questo tipo di abbassamento di frequenza perché quando sono in questa energia no? a volte scendono cose di un certo peso che ti stendono in tutti i sensi perché abbassa le frequenze le abbassa così tanto che poi favoriscono il rilassamento per cui è forte che mi dici che tu figli sei addormentato ciao Tina Laura allora sei rinato fondamentalmente Laura sì dopo quell'evento delle delle canalizzazioni è stata una rinascita completa anzi guarda ogni tanto rimpiango un po' quel periodo perché ormai sono passati già più di un paio d'anni perché in quel momento io ero immerso in una bolla di amore impenetrabile cioè io vivevo nell'amore delle guide cioè era una cosa stratosferica viaggiavo a sei metri sopra il cielo avevo una forza interiore enorme poi piano piano hanno visto che stavo in piedi con le mie gambe hanno mollato un po' perché giustamente io mi hanno fatto assaggiare mi hanno dimostrato mi hanno fatto sentire che è possibile che è reale io ho la la certezza assoluta cioè voi magari di questo qua mi racconta le storie ma io dentro di me ce l'ho è un'esperienza così potente che potete raccontarmi tutto quello che volete ma io so cosa ho vissuto e quindi quel grandissimo amore infinito che sono riuscito a sentire me lo porto dentro come ancora quando mi perdo mi ricordo questa cosa dico è rallenta non ti disperare non ti preoccupare perché tanto è sempre tutto lì anche quando ti senti perso ti senti abbandonato non ci credi più pensi che ti hanno girato le spalle pensi che ti stanno ignorando invece sono sempre lì pronti ad amarti costantemente appena ti affidi appena ti apri appena ti ascolti senti l'amore e non ci esiste più la separazione non esiste più la differenza non esiste più la voi qua io là non insieme siamo noi oh chiara ciao cara ciao maria ciao alberto ciao elsa grazie per le notifiche che voi riuscite a sentirmi io invece ho perso la mia immagine ma non è un problema guardo qua quindi mi vedete voi io l'importante è che voi mi sentite e mi vedete sentiamo bene grazie per i feedback ti vediamo e sentiamo anche perché c'è una bella differenza da quando uno parla a quando poi effettivamente viene viene trasmesso in streaming c'è un paio di minuti forse sto guardando ciao Giuse io l'ho preso il libro posso dire che mi è stato utile è molto bello è scritto in modo semplice e si capisce molto bene lo consiglio a tutti molto utile grazie Giuse e sul libro una cosa che vi che vi fra giusto esorto a fare è quando perché ci sono due parti nel libro io normalmente introduco e magari dico due parole alla fine e poi all'interno c'è il messaggio delle guide allora quando parlo io tranquilli nel senso lasciate pure perdere ma quando parlano le guide fate attenzione alle parole che ci sono scritte perché sono messe in quella sequenza o viene detta quella tal parola perché c'è un preciso un perché specifico c'è un motivo sempre a volte serve per mandare in confusione la mente a volte serve perché nel senso ci sono delle ripetizioni perché entri sempre più dentro oppure è capitato l'altro giorno io mi ascolto nel senso l'audio del libro mentre guido e c'è una parte quando parla di Dio nel capitolo Dio e amore quindi l'energia universale dove vediamo se riesco a trovarlo adesso va bene lo trovo non è un problema comunque mi dicono parlan dell'uomo che separando tutto facendo ricerche con fredde analisi non troverà Dio e quando ho canalizzato questa parola con fredde analisi mi sono interrogato sul significato perché fredde analisi pensavo che l'uomo fa l'analisi scientifica con un certo distacco poi l'altro giorno mentre guidavo le ascoltavo ormai per la millesima volta mi è arrivato perché c'è scritto fredde analisi perché gli scienziati che studiano l'atomo quindi le particelle usano la superconduttività la superconduttività dei materiali è raffreddata ad azoto quindi prossimità allo zero meno 270 gradi quindi quando parlano di fredde analisi in questo caso si riferivano ad aspetti scientifici e lì ci sono tanti pezzettini che vengono detti buttati lì e non è sempre facile coglierli alcune volte mi ci è voluto tanto tempo eppure dico caspita le ho canalizzate io e non le ho ancora capite e quindi ho sempre avuto la prova che c'era qualcuno qualche entità che mi guidava in queste canalizzazioni perché dicevo cose che ho capito dopo mesi e a volte dopo anni allora ma Mariangela scusate mi sto collegando adesso di cosa si parla Mariangela stiamo parlando di un po' del mio libro La via del cuore stiamo parlando un po' della percezione umana stiamo parlando un po' di come vivo l'esistenza di come anche l'essere umano in generale vive l'esistenza un po' della mente un po' della percezione un po' del sentire un po' degli angeli un po' degli esseri di luce facciamo un po' di escursus mettiamo in relazione le cose le colleghiamo insieme per trovare una certa un certo filo conduttore che lega tutte queste informazioni è chiaro che se hai domande cerco di rispondere allora ciao salvatrice grazie Tina interessantissimo ciao Clara Laura è la tua serenità che riflette oddio io Laura mi sento sempre comunque irrequieta come anima nel senso come ho detto prima quell'amore immenso che ho sentito che mi faceva stare come si dice in braccio a Dio è venuto un po' meno e quindi mi sento sempre beh no c'è una parte di me che cerca sempre di tornare a quell'esperienza mentre ormai so che che è stato un dono per farmi prendere coscienza e che adesso nella mia vita se ci sono altri step da fare che è camminare in presenza cioè vivere non identificandomi nei miei drammi personali nelle cose che mi succedono nel quotidiano ok ma invece prendere tutto quello che mi capita come spunto per guardare ancora delle parti mie che fatico a vedere o fatico a trasformare quindi diciamo che ti ringrazio perché perché mi dici che senti la serenità io cerco sempre maggiore serenità cerco sempre di vivere un po' più nell'amore perché avendo sentito l'amore possiamo dire con la maiuscola ho quello come riferimento e ho quello come obiettivo ed è uno stato di possiamo chiamarlo estasi estasi divina nel senso è non ti manca niente cioè va tutto bene tu accetti tutto accogli tutto riconosci le persone che soffrono e vedi le riconosci come loro manifestazioni non le prendi mai sul personale è uno stato di coscienza che è fantastico da vivere io mi auguro che riusciate a viverlo anche voi almeno una volta ma anche tutti i giorni quindi il mio obiettivo è riuscire a tornare a quell'energia lì con le mie gambe poi non sempre ci riesco infatti ogni tanto torno un po' dentro mi ascolto chiedo aiuto agli angeli quindi un po' mi fanno le coccole perché mi sento sempre accarezzare mi sento riempire dal loro amore quindi fra virgolette mi tranquillizzano ricordandomi che ci sono allora mi vengono in mente tutte le cose che mi hanno scritto che mi hanno canalizzato grazie Enrico bello ascoltare la voce del cuore faccio è una bella possibilità Enrico quella che mi dai perché ti posso garantire che non c'è tanta gente che è disposta ad ascoltare oggi tutti abbiamo con Facebook con Instagram con TikTok abbiamo tutti la possibilità di manifestarci di condividere e quindi c'è rimasta poca gente a ascoltare sono tutti che vogliono dire la propria però se non non lasci spazio all'essere all'anima al cuore ti parla l'ego parla la mente parla le immagini che hai nella testa parla le idee e a volte sono vuote quelle parti nel senso sono sono prive di amore sono prive di sentimento fra virgolette lasciano un po' il tempo che trovano mentre è bello invece per me quando sento quelle persone che ti trasmettono quel pezzo del loro vissuto che magari ti trasmettono anche la loro difficoltà ma anche la loro grande fede la loro fiducia verso l'universo è capitato di leggere un post di qualche amica che ho condiviso sulla mia pagina che nonostante certe difficoltà c'è l'affidamento totale e lì ti si apre il cuore perché vedi l'anima in cammino la grandezza di quell'anima quindi per me è un piacere poter condividere questo pezzettino con voi che apprezzate riuscite a sentire ciao Lucia ciao Anna Anna Bari per caso ti ho visto dove mi hai visto? qua su focus ciao Sabrina ciao Franci Carmela esatto Carmela dovresti dirmi a cosa ti riferisci perché se no non mi ricordo perché vedo indifferita le cose allora Maria Angela i nostri angeli possono essere i nostri cari defunti o altri esseri superiori ma normalmente possiamo dire entrambi nel senso che diciamo i defunti sono defunti come tali no e gli angeli sono un altro tipo di entità è chiaro che non esistendo la separazione nel senso non è che il defunto vada una parte l'angelo vada un'altra cioè noi abbiamo quest'idea no di di qua uno di là ma come dicevo nella loro dimensione è tutto coesistente cioè non esiste lo spazio-tempo non è che uno sta su vega e l'altro sta su alfa centauri è chiaro che sono energie che probabilmente hanno intensità differenti adesso non so come siano strutturati lassù però la percezione che ho avuto quindi la sensazione che ho avuto è che le energie sono quelle più prossime all'amore e quelle più distaccate dall'amore quindi possiamo dirle la distanza deve essere come la corrente come la corrente elettrica no c'è la corrente debole e quella fortissima diciamo gli angeli sono corrente fortissima perché sono quelli più vicini all'amore di Dio mentre le persone incarnate come noi magari l'energia no è un po' più leggera però i defunti vengono anche loro a guidarci a sostenerci io mi è capitato di fare alcune canalizzazioni dove vengono giù i defunti a salutare le persone che vengono a fare la canalizzazione e lo senti quell'amore infinito che hanno verso la persona e viceversa senti l'amore che ha la persona verso il defunto qui non esiste che uno se ne va e scompare se ne va e resta energeticamente è una frequenza sempre accessibile noi l'anima di quella persona l'essere l'energia lo spirito di quell'essere è sempre interpellabile da noi e quindi noi lo possiamo sentire sempre gli possiamo parlare e sentire dentro le noi le risposte come con le guide cioè sotto questo aspetto è simile agli angeli cioè perché la modalità di comunicazione è la medesima io posso parlare con mio zio defunto con mio nonno defunto con mia nonna defunta e sentire dentro di me la loro presenza la loro risposta il loro amore e non sono l'unico perché ne ho tantissimi di amici che mi hanno dato testimonianza di questo e quindi sì diciamo c'è un legame possiamo dirla così Alberto ciao come hai canalizzato mediante la scrittura automatica ispirata con un'altra modalità e di contatti privati come sono strutturati Alberto allora diciamo che ho canalizzato sia attraverso la scrittura e sia registrando col telefono quindi mi mettevo sdraiato principalmente ad occhi chiusi ascoltavo il cuore e poi lasciavo che le guide parlassero tant'è che anche qua ho le prove audio registrate e c'è un punto molto articolato del libro che serve appunto per mandare in pappa la mente che per fare quella canalizzazione di quel trafiletto che sono tre righe io ho provato a dirlo per 20 minuti senza esito positivo perché mi incasinavo poi quando è arrivata la canalizzazione in 20 secondi è arrivato giù quel trafiletto ma è arrivato giù con una linearità con una coscienza che che io 20 minuti prima a provare a provare a provare non ne venivo fuori quindi è divertente a un certo punto vedere questa questa distanza no fra la mia capacità di comprendere le cose e poi quando viene giù un'entità a supporto come la coscienza si apra e tu dica cose fra virgolette per me stupefacenti no e e quindi diciamo io ho adottato queste due modalità mentre nel nei contatti privati la canalizzazione è diretta mi metto in relazione con la persona in questo caso con te ti guardo dritto dentro e mentre ti guardo negli occhi ti sento ti percepisco e ricevo anche le informazioni sotto forma di sensazione e quindi quello che sento quello che mi viene da dirti comincio a sondare un po' la tua vita per capire dove ci sono i nodi oppure se tu hai delle richieste specifiche mi fai delle domande ok quindi mi chiedi cose di te tendenzialmente io lavoro sulla persona non tanto sugli altri perché comunque parte sempre tutto da noi stessi noi non possiamo fare le cose per gli altri cioè non è che puoi dirmi Fede guardami non so la mia ragazza come sta è difficile che io faccia questo tipo di attività io parlo sempre col diretto interessato perché funziona così nel senso è importante la tua vita in quel momento che sei lì quindi comprendere perché quali sono le ragioni che ti spingono all'esterno quindi cercare di vedere pezzi della tua vita che non vedi di prendere coscienza di aprire il cuore di sentire le emozioni di uscire dalla mente perché più delle volte mi capitano situazioni molto pesanti di vissuto dove la gente per non sentire queste situazioni si rifugia nella mente e poi come è successo a me nella mente si è persa e visto che a me sono scesi gli angeli a riportarmi a casa io diciamo cerco di riportarti a casa quindi di riportarti a sentirti perché una volta che tu ti senti non hai più bisogno di me perché in te parlano le tue guide parla la tua anima parla Dio che è in te ok quindi diciamo il mio compito è ricollegarti ricondurti a casa il modo a chiacchierare parliamo parliamo finché tu non senti è chiaro che non è fatto per tutti nel senso a me capita che vengano delle persone che vogliono entrare in contatto ma poi non vogliono realmente entrare in contatto con loro stessi e quindi non si può violare diciamo il loro intimo nel senso il libero arbitrio esiste ed è sacro ed è inviurabile le mie guide non lo violeranno mai io non posso obbligarti a sentire se tu non vuoi sentire una cosa tua e magari c'è una ferita dietro magari semplicemente ci giriamo un po' attorno e piano piano prima o poi queste cose lavoreranno dentro diciamo a grandi linee è così poi dipende dipende dalla persona perché per ogni persona si attiva una sinergia diversa vengono laggiù energie diverse si personalizza un po' a volte uso le carte per aiutare la persona come conferma se no parliamo direttamente allora allora perché ho un immenso desiderio di trovarmi abbracciato dalla luce desiderio di andare via salvatrice beh perché si torna l'amore semplicemente si torna l'amore cioè noi abbiamo paura della morte perché il corpo muore e la mente se ne va l'io finisce ma l'anima è mortale l'anima torna all'amore non c'è più questo distaccamento questa separazione che per quanto apparente ok perché noi viviamo la separazione apparente perché noi avendo la vita dentro non siamo distaccati dall'amore è paradossale ed è anche difficile da credere perché dici caspita in questo mondo sembra che l'amore non esista a volte ok mentre in realtà noi siamo immersi nell'amore e l'amore ci sta permeando ci sta vivendo dentro solo che i sensi ok la fisicità l'incarnazione è il velo di maia i sensi sono il velo di maia la fisicità è il velo di maia la mente è il velo di maia il desiderio tutto quello che predica il Buddha l'attaccamento il desiderio è tutto velo di maia è tutta illusione è l'illusione della percezione e le guide dicono la percezione è una manifestazione del tuo essere e il tuo essere si percepisce e agisce no scusami e il tuo essere si manifesta e agisce seguendo le direttrici che si è dato da solo ok quindi il mio essere qua è una manifestazione della mia anima perché la mia anima si è data a uno scopo per questo prima ho detto tu puoi tornare a Dio puoi toglierti la vita quindi il problema è che se la tua anima ha voluto scendere qua ci sarà un motivo e se tu te ne vai lei poi ti riporta qua un'altra volta quindi tanto vale accogliere accettare e riconoscere perché che cos'ha la mia anima da dirmi e poi aprirmi qua all'amore non devo morire per tornare nell'abbraccio della luce dell'amore semplicemente mi devo aprire e viverlo qui in questa terra se noi riusciamo a fare questo passaggio come umanità noi viviamo in paradiso e non più all'inferno il nostro salto quantico è il viaggio in quinta dimensione noi dobbiamo passare da una dimensione fisica a una dimensione mentale e da una dimensione mentale a una dimensione animica ok allora noi stiamo già passando a livello globale dalla dimensione fisica a quella mentale se pensate al mondo del virtuale lo smart working ok i social anche in questo istante no ci stiamo vedendo a distanza siamo già shiftati noi come coscienza in un mondo virtuale astratto il passo successivo è mettere il corpo e la mente a servizio dell'anima quando questo riusciremo a farlo in tanti creeremo delle nuove comunità creeremo una nuova società e quindi noi qua vivremo nell'amore perché quando tu ascolti la tua anima non ferisci nessuno quando tu ti ami ami gli altri ama il prossimo tuo come te stesso diceva qualcuno quando tu ami te stesso hai lo stesso amore per gli altri ma se io soffro se io non mi ascolto se io mi giudico se io mi schernisco se io mi tratto male cosa pensi che farò con te le stesse cose lo faccio con me figurati se non lo faccio con te per questo bisogna imparare ad amarsi spero di esserti stato di aiuto salvatrice ciao alessio ciao fabio fabio vediamo cosa ci racconti salve un defunto per quanto tempo resta legato la sua ultima vita terrena prima di proseguire nel proprio cammino per poi magari ritornare a fare nuove esperienze sulla terra fabio è una bella domanda alla quale io non ti so rispondere nel senso non tratto questo tipo di informazioni anche perché magari ti sei collegato da poco ma se pensi quello che ho detto prima che per l'anima la vita sulla terra è accaduto in uno schiocco di dita capirai che questo aspetto temporale è irrilevante per quelli là per quando sei nell'altro lato ha rilevanza quando sei in questo lato cioè per l'anima non esiste il tempo per cui il fatto che un'anima si incarni dopo un giorno dopo dieci anni dopo mille anni non ha importanza perché per lei il tempo non esiste magari è legata allo scopo ok se io mi sono dato uno scopo facciamo un esempio di venire a portare certe informazioni che saranno utili fra 300 anni magari non mi incarno per 300 anni noi non sappiamo veramente cioè Federico non lo sa poi magari qualcuno lo sa quindi ti darà lui la risposta per come diciamo fra virgolette sono stato istruito dalle guide la visione che mi è stata data è quella che ti trasmetto ovvero che l'anima non ha spazio tempo e quindi parlare di tempo di incarnazione è decisamente relativo relativo al piano umano ok un'anima potrebbe scegliere ad incarnarsi continuamente muore e si rincarna istantaneamente ok perché lei può farlo ma mi è capitato di pensare perché mi sono successe delle cose di un certo tipo che la mia stessa anima vivesse simultaneamente in più corpi per cui guarda non entriamo nell'argomento perché ci toglie dalla nostra realtà e la via del cuore è percorso per vivere bene sulla terra perché per quanto noi abbracciamo il mondo spirituale comunque viviamo sul pianeta terra e dobbiamo imparare a portare la dimensione spirituale nel quotidiano nel pianeta terra perché se andiamo troppo ad abbracciare l'aldilà ci perdiamo l'aldiquà e noi stiamo vivendo nell'aldiquà e la sofferenza è nell'aldiquà nell'aldilà c'è l'amore assoluto quello che ho sentito è amore assoluto quindi per me per Federico la garanzia è che nell'aldilà c'è l'amore assoluto l'ho provato stando qua ok perché me l'hanno fatto sentire e il mio compito personale è darvi testimonianza di questo e per me lavorare per vivere nell'amore poi giustamente ognuno poi fa altri percorsi parla con altri contattisti che fanno altre mansioni perché ognuno fa il suo pezzettino io non posso sapere tutto magari mi piacerebbe essere l'oracolo niscente in realtà vi do un frammentino di quello che mi è arrivato di quello che sono riuscito io a canalizzare poi ci sono altre persone che sono più portate a parlare di certe cose e altre persone molto più fra i volete potenti che possono canalizzare altre informazioni e le riceverete da loro io vi trasmetto quello che riesco spero di averti risposto Fabio Maria Angela come si fa ad avere un contatto privato mi scrivi mi scrivi e ci accordiamo mi scrivi in privato su su messenger e poi ci accordiamo Antonella grazie per il cuore oh Laura ciao cara bentornata un po' che non ci vediamo Anilei il faro ciao Federico bello risentirti ti abbraccio anch'io cara ciao Sonia che genere di messaggi ricevi Caterina beh intanto diciamo il messaggio più importante è quello che è trascritto nel libro sono 48 sottocanalizzazioni ed è legato a come vivere dell'uomo dentro il corpo umano quindi la percezione dei sensi la mente la tridimensionalità uscire un attimo dal piano dimensionale alcune leggi universali e quindi ho ricevuto dei messaggi per acquisire un po' di coscienza in più poi personalmente io ho due tre quaderni dove si è pieno di scritti ma sono legati al mio vissuto personale alcune volte invece ci sono dei messaggi pubblici che ho condiviso sulla mia vacheca altre volte sono cose private legate al mio processo interno con le relazioni con le altre persone con la mia famiglia cioè i messaggi sono per a volte servono per farmi lavorare sui miei blocchi emozionali mi capita spesso di io sono una persona un po' così mi prendo fuoco facilmente da buonariete quindi ogni tanto io mi arrabbio con le guide perché adesso a voi ho fatto sentire questo grande amore però quando sono nel mio dramma umano mi incazzo proprio alla grande quindi ogni tanto gli scrivo arrabbiato brava scrivo una pagina intera di arrabbiatura poi mollo la personalità quindi questa parte di me arrabbiata lascio che l'energia delle guide mi guidi nel senso mi guidi nella scrittura e quindi sento questa energia di amore che mi fa scrivere delle cose e di punto in bianco mi scoperchio a cuore comincio a piangere a fontana e quindi tutta quell'energia di dolore che avevo prima che si manifestava con la rabbia dopo uno scritto scompare perché me la sono pianta tutta me la sono buttata fuori perché una cosa che non vi ho detto ma lo dico spesso il modo per uscire dalla sofferenza e dal dolore è piangere piangere come piangono i bambini piccoli sembra paradossale è facile no è facile a parole a farsi è difficile perché io tantissimissime volte sento persone che hanno smesso di piangere o che piangevano una volta poi a un certo punto hanno smesso ok si sono irrigidite io stesso ogni tanto mi irrigidisco mi irrigidisco quando non voglio toccare una nota dolente della mia anima quindi offre una spina nel cuore quando non voglio toccare quella spina nel cuore mi irrigidisco non piango più non sento più e allora la vita l'anima e anche le guide sono costrette a creare degli eventi che mi riportino poi dentro e mi permettano di sentire nuovamente e di affrontare perché non è facile affrontare la sofferenza della propria vita vero cioè riuscire a piangere apertamente un dolore significa riviverlo emotivamente completamente magari a me sicuro quindi è una garanzia quello stesso dolore va rivissuto più volte per guarirlo magari è profondo ok va lavorato tante volte è come il ferro non è che una martellata ti ha trasformato il ferro in spada e ne devi dare di martellate e lo devi mettere nel forno poi nell'acqua fredda e avanti per farla tempra questo è un esempio figurativo veramente no? però per farvi capire che è impegnativo lavorare su se stessi e molte persone scappano da questo anche quando fanno i consulti individuali magari le voglio portare dove c'è un nodo di sofferenza però scappano via quindi ci passano sopra o rivivono l'evento con distacco invece bisogna ripiombare lì e poi spurgare no? pulire le guide l'esempio semplice che mi fanno mi dicono Fede tua è una stanza piena di mobili vecchi vecchi roba che ti porti dietro con la muffa hai deciso di cambiare hai deciso di fare l'arredamento nuovo che cosa fai? devi far uscire il vecchio se vuoi far entrare il nuovo e nell'anima è uguale nel cuore è uguale se nel cuore ho le ferite ho il dolore e voglio farci entrare la gioia la felicità e l'amore devo far uscire il dolore per questo bisogna piangere urlare perché è un modo che ha la dimensione dell'essere dell'anima di manifestare il suo dolore ok? è un'energia nel pianto voi guardate i bambini quando piangono quando urlano quando strilano hanno un'energia infinita a volte sembrano delle sirene ok? spero di averti risposto grazie Fabio grazie Antonella Carmen è la prima volta che ti seguo beh spero di esserti stato d'aiuto o che le cose ti interessino Anna ciao Federico grazie a te per le tue condivisioni ecco siamo arrivati alla fine dei messaggi avete da chiedermi qualcos'altro? se volete condividiamo ancora qualcosa se siete stanchi vi ho affaticato vi ho riempito di informazioni c'è ancora spazio per qualcosa? vediamo un po' se mi rispondete Nick com'è iniziato tutto a te? immagino come ti dicevo Nick tu magari sei arrivato adesso è iniziato tutto perché non stavo bene perché soffrivo quindi questa sofferenza interna che mi impediva di sentire di ascoltarmi mi ha portato nella mente quindi nell'alienazione mentale nella fuga verso le illusioni e più fuggi e più fuggi verso le illusioni più perdi il senso della realtà perché la mente è un universo infinito legata a un corpo che vive in un altro universo infinito ok? quindi il corpo fisicamente Federico occupa qualche centimetro quadro lo metti in milioni di chilometri e siamo solo nella terra poi ci metti la via latte all'universo al sistema solare fisicamente posso muovermi nell'universo all'infinito in più se pensi che la mente lei stessa può collegare tutte le informazioni all'infinito e quando tu ti sposti nella mente e ti rifugi lì vivi di dati ciao ti puoi perdere allora quando mi ero perso nella mia mente cos'è successo? ho chiesto aiuto all'anima sono venuti giù lei gli angeli e mi hanno aiutato a tornare dentro attraverso la presa di coscienza tant'è che il libro La via del cuore ha un insieme di canalizzazioni fatte per prendere coscienza di se stessi quindi di come funziona un po' l'essere umano a grandi linee l'architettura di base a riconoscere dove si focalizza l'attenzione e quando si focalizza l'attenzione e poi portarla dentro tant'è che c'è la pratica di ascolto del cuore l'ascolto del cuore serve a uscire dalla mente a uscire dal corpo nel senso dal mondo dal mondo fisico nell'identificazione dei sensi perché ritorni all'energia del battito cardiaco il battito cardiaco è come fosse un tamburo sciamanico è quell'energia del tuo essere che emette la vibrazione che hai e questa vibrazione crea il flusso è la musica del tuo corpo è lo stato vibratore appunto del tuo essere e quando tu rientri in sintonia con questa vibrazione sei in armonia con la tua vita mentre quando sei in sintonia con la mente sei in armonia con altre frequenze che sono necessarie magari quando devi stare al computer a lavorare o stai guidando ok o stai facendo cose impegnative che richiedono molta attenzione nel mondo fisico allora lì l'attenzione mentale deve essere presenza ma nel caso del sentire dell'ascolto del cuore dell'anima per entrare in contatto intimo con se stessi bisogna abbracciare altre frequenze e quindi il cuore è la porta verso queste frequenze le frequenze dell'essere e quindi diciamo che è iniziato tutto così perché mi ero perso mi ero perso e loro mi hanno dato una via la via del cuore appunto per tornare a casa che la casa è dentro Tina è stato molto bello ascoltarti Nick grazie grazie a te ho fatto come te e stasera è la serata del pianto devo ricaricarmi Marika è un bene Marika considera che quando noi ci apriamo no facciamo uscire ci stiamo aprendo l'amore perché smettiamo di tenerci sta sofferenza dentro e la lasciamo andare è l'atto d'amore più grande che facciamo a noi stessi quindi Marika ti stai facendo un dono di liberarti e fallo tutte le volte che lo senti necessario non ti giudicare mai ignora il giudizio altrui anzi non giustificare neanche le tue azioni quando noi sentiamo la sofferenza l'unico modo per guarirla è farla uscire ok l'esempio più semplice avete bevuto tanta acqua dovete andare in bagno ma non ci andate ve la tenete lì ma secondo voi state bene dopo un'ora dopo due ore dopo tre ore come state ok è una sofferenza atroce dover trattenere no qualcosa che vuole uscire e quando andate in bagno finalmente vi liberate e state meglio con le emozioni è uguale è un'energia ok la sofferenza è un'energia è una cristallizzazione di dolore è un'energia che va liberata e per liberarla si fa piangendo urlando strillando l'esempio sono i neonati loro non parlano non si comportano loro sono loro esistono non si curano di voi all'inizio quando soffrono loro piangono ok loro sono i maestri più grandi loro arrivano dall'al di là sono le anime meno inquinate no poi vivendo qua si adattano ma quando arrivano loro hanno già tutto lasciano andare tutto mollano tutto allora quando ci vogliamo liberare da un dolore lo facciamo uscire e quindi Marika hai fatto benissimo Pina la prima volta che ti seguo buonasera come si fa cancellare cancellare Pina non si cancella le ferite di una vita che amo ma che dal momento in cui sono nata è stata gioia e anche grandi incidenti allora Pina purtroppo non si cancellano le cose le cose non scompaiono ok le cose che ci sono accadute ci servono perché ci obbligano a fare un certo percorso ok cioè difficilmente una cosa serve tanta energia servono tante sincronicità per far accadere le cose allora l'universo non si muove a caso l'universo non si muove presente il detto non si muove foglia che Dio non voglia quindi l'universo se si permette di farti vivere certe cose è perché quelle cose stanno assecondando lo scopo della tua anima ok quindi sono necessari a farti fare un certo percorso lo so che quando fai un'esperienza di sofferenza e dici ma chi me lo fa fare ma perché proprio a me io non ho scelto questo io non l'ho mai voluto però ci è capitato a noi e quindi volenti o nolenti dobbiamo accettare che una parte di noi è stata costretta a viverlo e comprenderne le ragioni senza per questo ok fare mia colpa semplicemente riconoscere accettare accetti che hai avuto una vita di un certo tipo con certi condizionamenti riconosci che grazie a quei condizionamenti hai fatto quel percorso dopodiché ti ami ti ami facendo uscire il dolore e riconoscendo che quei condizionamenti non è più necessario viverli perché adesso hai imparato hai preso coscienza ok le lezioni vengono ripetute finché non si impara come a scuola no ti bocciano finché non hai almeno la sufficienza finché non capisci una certa materia la devi ripetere per l'anima è uguale finché non prende coscienza di una parte di sé è costretta a rifare sempre la stessa esperienza cambiano le persone cambia il tempo cambiano le modalità ma l'energia dell'esperienza rimane la stessa perché non c'è coscienza o semplicemente c'è un dolore che non è stato trasformato non cancellato trasformato trasformato trasformi il dolore in amore dandogli tu la tua attenzione amorevole e accogliendolo lo accogli accogli il dolore per farlo uscire per liberarlo è una trasformazione alchemica energetica ok Alberto allora grazie per le preziese parole grazie a te Alberto pronunciate sicuramente vissute da te sì praticamente la maggior parte poi quelle delle guide invece sono cose che devo integrare penso proprio che leggerò il tuo libro con grande interesse mi rendo conto di essere troppo mentale e spero che il tuo libro abbia esercizi per aiutare ad ascoltare e aprire il cuore buona serata sì Alberto cioè tutto il libro ti parla di ascoltare il cuore e ti dà delle indicazioni ok ti verrà detto in tutti i modi possibili immaginabili e fisicamente devi portare l'attenzione qua al centro del cuore ok e poi stare lì quindi tenere l'attenzione in basso nel cuore e ascoltare la sua vibrazione e il suo stato d'animo questo è l'esercizio fisico quando hai padroneggiato questa parte lo riconosci come frequenza del tuo essere e quindi ti apri a quella frequenza ma non è semplice quindi la cosa più semplice è portare l'attenzione qua e sentirsi perché è legato all'attenzione della mente porto l'attenzione della mente nel cuore perché il cuore è un organo involontario è una parte di te che non puoi controllare la mente sul cuore non ha controllo ok buona serata Marika grazie grazie a te Marika Nick non riesco ad accettare quello che sto vivendo non ne va una dritta tutto va al contrario di quello che vorrei Nick beh intanto fra ricordate mi dispiace perché stai vivendo questo momento così impegnativo però ti posso dire che noi abbiamo un'idea della realtà la realtà deve andare in quella direzione con quella modalità la mia vita deve funzionare così noi abbiamo un'immagine dentro di noi poi la vita è molto più fantasiosa e ci scombina ci scombina i piani perché perché deve destrutturare la personalità arrivati a un certo punto allora ci sono varie anime ci sono delle anime che hanno dei percorsi molto lunghi per cui possono permettersi delle vite fra virgolette dormienti quindi vittime dell'illusione se così li possiamo definire altre anime come te in questo caso che sono costrette dalla propria vita a entrare dentro cioè l'anima ti sta dicendo è il momento di mollare la mente di mollare l'illusione di mollare il controllo e cercare invece di trasformarti un po' internamente prendere creare del nuovo spazio coltivare il tuo giardino interiore per cui bisogna ricapire se quello che vuoi è allineato con quello che sei e quindi prima devi riconoscere il tuo essere non quello che credi quello che hai fatto tuo come ti hanno dipinto gli altri come ti è stato insegnato questa è la destrutturazione prendere l'immagine che ci siamo fatti di noi stessi che è legata al condizionamento del vissuto metterla da parte e riscoprirsi quindi bisogna riscoprire le fragilità la sensibilità l'attitudine che è seguire quello che ti dà gioia quello che ti rende felice quello che ti aiuta ad andare avanti ok non esiste cioè non ti vogliono male non è che la tua anima ti vuole male vuole essere ascoltata e quindi dal momento che tu comandi l'attenzione tu comandi l'essere umano lo porti in giro puoi ignorarla l'anima e quindi l'anima fa di tutto perché tu l'ascolti quindi sta a te rallentare un po' i desideri e gli obiettivi e capire dove la tua anima ti sta dirigendo e perché ti sta dirigendo lì che cosa ti deve insegnare che cosa ti sta insegnando quale trasformazione ti è richiesta va bene spero di esserti di aiuto Pina grazie a te mi dici che la risposta ti è stata d'aiuto mi fa piacere oh grazie a te Nic spero di esserti aiutile oh Lucia ciao cara grazie ecco sono le undici se voi non avete altro da chiedere possiamo iniziare a fare i saluti aspetto qualche secondo per vedere se mi date qualche feedback che comunque gli argomenti sono tantissimi poi in funzione di quello che mi chiedete si entra nei dettagli comunque di stasera abbiamo chiacchierato di tante cose Nic si ascolterò la mia anima ecco è un lavoro costante da fare l'ascolto della propria anima del proprio sentire è un lavoro difficile ok perché vi posso garantire che io stesso faccio fatica perché come dicevo prima sono preso dalle mie mille obiettive mille scopi devo diventare devo fare e allora non mi fermo non mi fermo mai posticipo passano i giorni passano i mesi invece bisogna fermarsi Nic ti do un consiglio ti prendi una bella giornata ti metti davanti a un bel quaderno bianco e cominci a scrivere quello che senti scrivi quello che senti tutti i disagi tutte le cose e poi chiedi aiuto all'anima e cerchi di scrivere quello che la tua anima ti dice non ti giudicare quando scrivi lascia che quello che senti venga fuori è un mezzo per aiutarti a sentirti vedrai che magari e se ti viene dell'emozione tirala fuori non ti limitare io ogni tanto lo faccio così l'ho detto anche prima ciao Marika grazie buonanotte ciao Sonia Paola come si fa tramite meditazione penso che ti riferisci all'ascolto del cuore beh tramite meditazione dipende tu che tipo di meditazione facci ce ne sono milioni però diciamo che puoi farlo ad occhi aperti ad occhi chiusi io personalmente escludendo i sensi quindi ad occhi chiusi mi viene meglio però quando quando sono mi capita anche di farlo ad occhi aperti l'ascolto del cuore si porta l'attenzione in basso cioè tu riconosci dove sta andando l'attenzione sia all'esterno ma anche nei pensieri ok perché noi normalmente come si dice cosa significa dare attenzione ai pensieri immagina i pensieri come una concatenazione no di informazioni una catena di informazioni e tu segui tutti questi anelli quindi l'energia dell'attenzione continua a seguirle passi da un pensiero a un altro poi un altro poi un altro poi rifletti poi li metti insieme poi ti sposti poi cambi un altro pensiero e tu continui a seguire come seguire la coda di un serpente che si muove ok tu che cosa fai? smetti di seguire il serpente smetti di seguire questa concatenazione di pensieri che arrivano arrivano e continueranno ad arrivare la meditazione del cuore è portare l'attenzione in basso quindi io ti rigo la mia attenzione nel senso nei rilassamenti ci sono tante meditazioni dove si fa il rilassamento del corpo si porta l'attenzione sui capelli sul cuoio capelluto sugli occhi sulla mandibola sulla spalla sul braccio sui polmoni sul cuore sullo stomaco sulla gamba si porta l'attenzione sui vari punti a volte c'è la musica guidata a volte c'è solo la voce a volte c'è solo il pensiero che porta attenzione e poi automaticamente vai in rilassamento e lì puoi fare la tua meditazione alcuni hanno dicevamo prima la voce guidata altri hanno le visualizzazioni nel mio caso si fa l'ascolto del cuore perché si ascolta la vibrazione del proprio essere ok quindi l'energia della tua anima che spinge il tuo cuore a esistere a battere tu ascolti quell'energia questa è la meditazione restare in quello stato vibratorio e sentire quindi do tutta attenzione a come mi sento e a cosa sento in relazione alla mia vibrazione ok spero di aver capito la tua domanda Elsa grazie è sempre piacere ascoltarti oltre che legere il tuo libro grazie Elsa Nick scrivo allora faccio uscire quello che ho dentro grazie Federico del consiglio grazie a te Nick Paola la tua anima è proprio bella grazie non ti conoscevo mi incanta la tua dolcezza grazie Paola ecco cari amici io adesso vi ringrazio tanto di avermi dato il vostro tempo di aver condiviso con me di avermi dato l'opportunità di far uscire tutte queste bellissime cose perché le ho sentite dentro come penso l'abbiate sentite voi è stato un piacere e spero ancora che ce li potremo risentire e prima o poi che vi posso abbracciare tutti vi ringrazio vi auguro una buona serata e alla prossima ciao